E i tuoi fan, quelli più radicali e radicati, come hanno preso questo featuring con Giuliano, questa unione di mondi? Ma io non penso bene, ma non guardi questa cosa. No, perché la missione è talmente globale che non mi soffermo mai su uno o due, ma mi devo soffermare sulle moltitudini. Certo. E quindi molto bene, sicuramente nella mia carriera comunque, quello che faccio io, ci sono sempre i due o tre che lanciano il commentino negativo, ma va bene, va benissimo. Ma questo è, cosa vogliamo farci? Va bene. La gente sta dietro le tastiere apposta a volte. Esatto, quindi diciamo che però quello che stiamo facendo, quello che noi stiamo contribuendo alla musica globale in generale, quindi non ci fermiamo, noi guardiamo, scaliamo le montagne, le pietroline. Non ci interessano. Rock TV, solo su Sky, canale 718.